Dopo il farmaco Tachipirina, 3 milioni di confezioni vendute seguono Okitask, 1 milione e 700 confezioni vendute, Enterogermina, Aspirina, Rinazina, Moment, Glicerolo, Voltaran, Emulgel. Sono questi i farmaci più venduti nel 2014. Secondo l'Agenzia del Farmaco, la Sicilia si attesta a metà classifica tra le regioni italiane nel consumo di medicinali, indietro nella graduatoria alla provincia di Ragusa, dove non si fanno eccessi. Per i cittadini Iblei l'ingresso in farmacia è centellinato solo al bisogno o comunque in regime di esenzione del ticket.